Grazie Presidente, solo due parole perché mi ha anticipato il collega Giardelli perché io volevo sottolineare questa difficoltà dei parcheggi dei residenti. Il voto naturalmente sarà favorevole perché abbiamo esaminato in commissione, abbiamo rivisto qui il Consiglio, crediamo sicuramente che sia un'iniziativa progettiva in considerazione del fatto che richiede poco impegno da parte dell'amministrazione, ha poi ad un costo veramente ribassato rispetto a quello che l'amministrazione dovrebbe investire per fare e questo lo diceva fuori. Grazie.